Amici sportivi ben ritrovati nel salotto dello sport di casa vostra. Sport in casa questa sera per una puntata così variopinta e variegata perché spazieremo, parleremo di serie D, parleremo dell'esonero di Checomaino dal Bassano, parleremo del calcio in alto piano, parleremo anche di un importante evento che si è svolto a Trento in collaborazione con la Gazzetta dello Sport. Quindi insomma una puntata ricca di contenuti e ad accompagnarci in questa chiacchierata serale c'è un graditissimo ospite che ritroviamo questa sera, Roberto Bau. Buonasera mister. Buonasera e grazie per l'invito, come sempre venire qui a Rete Veneta è un onore e poi è un onore essere qui con giornalista, scrittore, telecronista e presentatore di eventi come Alex e Giuliano. Penso che ce ne sono pochi nel Veneto e anche forse in Italia. Allora, diciamo subito che non ho pagato l'ospite. No, no, sicuramente no, 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 no. Allora, torniamo seri perché ci sono tante cose da dire. Partiamo da un'analisi di quella che è stata l'ultima giornata di campionato per quello che riguarda la Serie D, una giornata che ha confermato intanto, Roberto, lo strapotere dell'Arzignano che va a vincere 6-0 in trasferta contro il Cattolica. Ma al di là del risultato, abbiamo anche gli highlights con i gol dell'Arzignano, ma dicevo al di là del risultato questa è davvero una squadra che sembra aver preso il largo, 28 punti in classifica, insomma, più 5 sulla seconda. Sì, 28 punti in 11 partite, frutto di 9 vittorie, un pareggio, una sconfitta. Sono stati sconfitti solamente dal Mestre e poi hanno il pareggio col Charlins. La squadra di Mister Bianchini e del Presidente Chiliese sta andando forte, sicuramente vuole tornare nei professionisti. Già l'anno scorso era partita male e poi ha fatto un girone di ritorno fantastico e è arrivato al ridosso del Trento. È salito il Trento, però quest'anno l'Arzignano ha tutte le carte in regola per poter fare il salto. Diciamo che in questo momento è una squadra tosta che non lascia punti alle avversarie e anche con le piccole non le prende mai sotto gamba. I punti parlano già chiaro. A cinque punti abbiamo la Claudiense che è il primo e il secondo posto al momento. Allora, parliamo proprio della Claudiense. Abbiamo visto i gol dell'Arzignano, Claudiense che è allenata da Antonio Andreucci, una garanzia, insomma un allenatore che non solo porta esperienza ma porta anche qualità in panchina. Union Claudiense Chioggia Sottomarina, perché sappiamo che i supporters che ci seguono, molto numerosi, quelli Granata, preferiscono che venga detto l'intero nome della loro società, come giusto che sia. Dicevamo, l'Union Claudiense Chioggia Sottomarina che insidia l'Arzignano al secondo posto. La Claudiense può essere l'antagonista principale dell'Arzignano? Penso proprio di sì. La Claudiense, assieme anche alla Luliparense stessa e alla Driese, diciamo che l'Arzignano sta andando forte, però non si sa mai nel calcio, ci sono ancora 23 partite da giocare, ci può essere un periodo di appannamento e quindi non si sa. La Claudiense, intanto come hai detto a te, un tecnico Andreucci, bassanese da devozione, che ha già vinto campionati in Serie D, è allenato da Triestina, il campo d'Arsego stesso, e un elettore di esperienza. Hanno come bomber, al momento attuale, Giulio Fasolo con 5 gol, è un ragazzo che, quando ero nello staff tecnico degli allievi nazionali a Cittadella, era con me, è allenato da Massimiliano Lucchini, è un ragazzo bravo, forte, veloce, ha già fatto la Serie C, però la squadra è tosta e è allenata da un mister capace. Allora, abbiamo parlato delle squadre di vertice, abbiamo parlato dell'Arzignano, della Claudiense, parliamo un attimo anche della Luparense, perché la squadra di San Martino di Lupari è a 7 punti di distanza dal primo posto, ha perso lo scontro diretto contro l'Arzignano, è una squadra, la Luparense, che come la andiamo a definire? È ancora in lotta per provare a vincere il campionato, o 7 punti da questa Arzignano, recuperarli sono tanti? Oltretutto, la Luparense non è andata oltre lo 0-0 contro l'Este nell'ultimo turno. Sì, diciamo che i 7 punti sono un distacco che è anche recuperabile, però bisogna vedere il passo che sta tenendo in questo momento l'Arzicchiampo, è un passo importante. I 7 punti, domenica hanno pareggiato ad Este, però ad Este è sempre un campo difficile. Se guardi la classifica, vedi l'Este a 14 punti, ma è sempre un campo difficile. Ho sentito anche il capitano del Luparense, Alberto Rubo di Tresca e Conca, mi dice che la squadra è buona, allenata da Zanini, Nick Zanini, che sappiamo è un attore che tre anni fa è salvato in Vicenza nell'ultima partita di Serie C, e ci sono buone qualità. Alberto Rubo ha già fatto 5 gol, insieme a Cardellino che hanno 5 gol. Però un altro giocatore importante che hanno lì è Cherubini-Colò, ex Serie A, ha giocato nel Cittadella, ha giocato nel Bologna, nel Atalanta, nel Verona, nel Padova. Questo è un giocatore carismatico, che dà carica alla squadra, che è proprio la trascina, che è l'Ibrahimovic del Mila, lui è un difessore centrale questo, però ha il carisma che è l'Ibrahimovic del Mila, e lo porta nel Luparese, e cerca di dare sostegno e qualità, a livello anche morale, e alla squadra stessa. La citazione su Ibrahimovic mi piace particolarmente, scherzi a parte, torniamo a parlare di Serie D, perché abbiamo parlato delle squadre che stanno lottando per il vertice, però attenzione, perché a 18 punti, proprio a pochi passi dalla zona playoff, c'è una squadra che anche quest'anno sta scrivendo una bellissima favola, una bellissima favola che i supporters e i simpatizzanti del calcio si augurano, possa essere anche per questa stagione a lieto fine, parliamo del Cartigliano, Cartigliano che al quarto anno di Serie D si conferma sempre di più una certezza, ormai forse è anche superato il concetto di definirla una cenerentola del campionato, ormai è una solida realtà, Cartigliano che è andato a vincere 3-1 in trasferta sul campo del Caldiero Terme, sappiamo benissimo quanto il Caldiero sia una squadra difficile, forte e ben organizzata, 6 punti in due trasferte con l'Ambrosiana e col Caldiero, Cartigliano ha 18 punti in classifica, insomma mister so che tu li conosci molto bene, che Cartigliano è quest'anno e come sta andando la stagione? La classifica parla chiaro, con due vittorie siamo al ridosso dei play-off, siamo perché io sono un tifoso estremamente del Cartigliano, seguo come che lo sono del Bassano e del Vicenza, però il Cartigliano mi piace, mi piace la realtà del DS Toresin, il mister Alessandro Ferronato è una garanzia, già da 7-8 anni è la guida, e sta facendo delle cose veramente importanti e spero in futuro di vederlo più in alto perché Beriterà deve andare su serie C, serie B perché il mister è un mister che varia tanto secondo me e ogni anno hanno dei giocatori nuovi e ogni anno riescono ad esprimere dei giocatori che non li conoscevi, li vedi lì e li vedi andare forte. Domenica ha segnato Budra e ha segnato anche Di Gennaro, appena è entrato, ha messo dentro il gol e segnano un po' tutti, hanno fatto 11 gol e ne hanno subiti 8, però a segno sono dati 7-8 giocatori e questa è una cosa importante perché magari c'è difficoltà a finalizzare con le punte perché magari si danno da fare e aprono varchi, corrono, pressano, magari sono i primi difessori, però vanno segno un po' tutti, questa è una cosa importante. Continuando di questo passo non si sa il campionato è lungo, però so che parlare di play-off a Cartigliano è una tranquilla salvezza. Bisogna essere onestamente in Cartigliano è una gran realtà e bisogna dare applauso a questa società. E a proposito di grande realtà, c'è una grande realtà del comprensorio che sta vivendo un momento di difficoltà. Parliamo del Bassano, Bassano che insomma forse deve dire addio ai sogni di vertice, ai sogni di promozione per questa stagione, Bassano che deve dire intanto addio al suo allenatore Francesco Maino, Checomaino che è stato sollevato dall'incarico. Roberto, due parole su questa scelta, anche stavolta paga l'allenatore. Sì, purtroppo la legge del calcio è la regola, la brutta regola del calcio che quando i risultati non vengono paga l'allenatore. Su Checomaino posso solo dire che ha fatto tre anni e mezzo a Bassano dove ha fatto due promozioni dalla prima categoria, la promozione portando in eccellenza il Bassano. L'anno scorso era partito nel campionato iniziale fortissimo, era il primo posto. Poi nel mini torneo finale per decidere, dopo Covid, per decidere la promozione sono partiti in mare, poi sono addirittura l'ultima partita era ancora in lotta per poter andare in Serie D. Poi è salito San Martino, ok. Quest'anno Checo al momento sono ottavi a 12 punti appena sopra il play-out e purtroppo la prima è 11 punti a seconda a 10, però tutto sommato tanto di cappello a Checomaino. Eh sì, non va dimenticato quello che hai riuscito a fare e poi insomma permetteteci, l'abbiamo avuto ospite tante volte qui nei nostri studi anche lo spessore umano di Checomaino merita sicuramente grande rispetto, insomma la vita comunque va avanti in bocca al lupo per la prossima avventura sportiva che vedrà protagonista proprio l'ex a questo punto allenatore del Bassano. Abbiamo avuto ospiti i diciamo referenti del dell'Union LC Lusiana Conco abbiamo avuto insomma l'allenatore e il portiere ospiti qui da noi ne approfitto Roberto della tua presenza qui per due paroline sul calcio in alto piano perché insomma ne abbiamo già parlato appunto inizio settimana però ci fai un po' il quadro generale in un minuto come è un po' la situazione. In un attimo ti faccio un po' il quadro diciamo che beh l'Union è in seconda categoria al momento purtroppo non stanno venendo i risultati e domenica hanno avuto una sconfitta un po' pesante però se possono giocare per la salvezza e l'ambiente è un ambiente sereno e c'è tutta la possibilità per risalire. In prima categoria c'è l'Unione di Sette Comuni e anche loro sono in difficoltà domenica hanno subito una sconfitta a Dueville pesante però il Dueville è una delle papabili per vincere il campionato e ha tanta qualità e ad Asiago con l'Unione di Sette Comuni è andato ad allenare il fratello di Checomaino Ernesto Maino e ha già fatto 4-5 punti ha messo cioè è entrato che erano ultimi a un punto hanno 5 punti adesso e sta cercando di portare il suo sapere e la sua grinta e la sua determinazione il campionato è lungo si può sempre risalire purtroppo in montagna non è facile perché c'è il problema invernale adesso si comincia a scendere in pianura poi c'è il Tresce Con che è in seconda categoria che è il primo anno di seconda diciamo il secondo ma l'anno scorso è stato bloccato dal Covid è un po' in difficoltà però speriamo che riesca e ha il penultimo posto con 4 punti è una squadra che io non è nato dove mi sono divertito alla grande e sono riuscito ad ottenere dei bei risultati e spero che riesca a riprendersi allora siamo in chiusura abbiamo ancora un minutino vi avevamo promesso di parlare di un evento che ha visto Roberto Bou spettatore in prima fila come lui è abituato a Trento un evento importante insomma che ha visto la collaborazione anche della Gazzetta dello Sport e di che cosa si tratta a me lo sport piace in generale il calcio è il primo sport però mi piace seguire dall'atletica al ciclismo e gli sport invernali e tutto sono andato a vedere questo evento della Gazzetta dello Sport ma sono già tre anni che vado su l'anno scorso è saltato per il Covid però io vado sempre a vederlo quest'anno sono riuscito a vedere Pogacar che è stato il campione che ha vinto il Giro d'Italia al Club France e la sua esperienza è tutto e un ragazzo di 23 anni che è di 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 un'umiltà terribile e poi tutti tutti gli attetti a quei livelli sono tanto umili sono tanto umili che magari uno pensa da fuori invece sono umili ho visto il quartetto che ha vinto la 4% Jacopo, Sottortu e Patta e Desalù e gli ho sentiti ok tanta roba e hanno portato anche il discorso del 4% è tutta una gara che se solo si sbaglia un cambio una frazione di secondo si salta tutto comunque il messaggio che arriva da Trento a contatto con questi grandi campioni è che l'umiltà è sicuramente un valore che poi alla lunga fa la differenza e allora noi ringraziamo Roberto Bau per essere stato in nostra compagnia questa sera avete visto non abbiamo tradito le aspettative insomma puntata con tanti argomenti con tanti contenuti noi ci rivediamo domani sera per un'altra insomma abituale ormai consuetudine puntata di Sport in Casa grazie Roberto per essere stato con noi grazie mille alla redazione grazie mille a te Alex e allora appuntamento a domani grazie a tutti grazie a tutti